Signore, non capisco. Ho risolto più casi di qualunque altro agente. FBI. Lei è un'agente federale troppo equilibrata. Hai talento, ma non fai gioco di squadra. Risulti antipatica. Aspettate che conti fino a tre. Uno, due. Ok, andate pure. Lei è una poliziotta troppo squilibrata. Ehi, guarda chi c'è! Come il topo con il formaggio! Scappa in faccia! Da Paul Fig, regista di Le Amiche della Sposa. Ho motivo di credere che sia mentalmente instabile. No, prova a lavorare con lei. È la migliore che abbiamo. Sto stronzo! È l'FBI che ha competenza. No, non ci sono. La smetti? No, no, nemmeno qui. Palla finita, Mallin. Che cosa fa? Sta cercando le mie palle. Ehi, qualcuno ha visto le palle del capitano? Fatemi sapere, sono così più o meno. Sono piccole piccole. Come quelle delle femminucce, semmai avessero le palle. La cosa più difficile che devono fare... Non avvicinarti mai se non ti sto aspettando! ...è lavorare insieme. Sono specializzata negli interrogatori. Non possiamo pestarlo con l'elenco telefonico. Ehi, devi rimanere calma. Chi è che fa così? Ankle Suar è invischiato nel mondo della droga. Eccolo lì. Sei fuori luogo. Sono un agente federale. Sembra una che sta per sedersi a una scrivania per calcolare le loro tasse. Che ti sei messa? Ferma, è intimo modellante e tiene le cose più insieme. Perché? Sennò che succede? Ti spapoli. No, no, no. Sì? No, hai detto che etichettava. Sì, ma non per giorni. Sorpresa! Non riesco a tenerla! Cosa? Tiratemi su! No! La macchina! Ha tenuato la caduta, giusto? Già. Si riprenderà. Sandra Bullock. È così che succede per strada. Ha bestia. Piente slang. È come guardare una sua rapomiciare. Mi turba. Melissa McCarthy. Questo è tutto per te, tesoro. Chi è quella? Mia madre. Niente cellulari. Sicura? Oh, ho cambiato idea? Lasciamoci un pandare. Corpi da reato. È stata una figata. L' besluto. Chi è la sola? Cosa è tutti? Chi è la sua? Chi è la sua? Chi è la sua? Cos'è la sua? Ci è la sua? Chi è la sua questa?